DG Photo Art, it's media, it's art. Questa è uno spettacolo che cambia di giorno in giorno, può cambiare, subisce dei cambiamenti. Ieri era un altro, oggi è un altro. Apportiamo delle modifiche. Modifiche, no, modifiche. Modifiche durante, insomma, perché è uno spettacolo molto così, senza un... Cioè, non è proprio uno spettacolo... È uno spettacolo senza niente. È uno spettacolo, insomma, ma andiamo avanti, ma andiamo avanti. perché oltre la nostra presenza c'è una fondamentazione di vitalità, di gioventù, di roba fresca, nuova perché noi siamo avanti con l'età, abbiamo pensato di mettere dentro una band musicale di ragazzi, di scattanti abbiamo pensato di mettere una band scattante, giovane, moderne comunque ve li vogliamo presentare alla chitarra, ve lo dice lui Antonio De Carmine non so se me lo spiego alle concussioni, alle percussioni, guardate là non ti avvicinare molto alla delegazione Di Gennaro Carlo, 18 anni ha detto un uomo come si faceva a scuola, Carletto Di Gennaro guardate qua l'est but not list e invece l'ultimo ma non ultimo, penultimo Ugo Gangheri Ugo quel Gangheri e così abbiamo formato una compagnia meravigliosa che ha un sapore del teatro, ha il sapore del varietà, ha il sapore della commedia musicale, il sapore del concerto una cosa veramente trascinante, ma una cosa bellissima una cosa bellissima, tra l'altro c'è anche Camilla che vi vorrei presentare che sta dietro le quinte sta là però lei un po' si vergogna, un po' anche no però Camilla vieni qua, fatti vedere perché è quella nota che ci voleva guardate, guardate, eh? questo è Francesco Polantoni quando si trucca, eh? eh sì esatto, ma Francesco Polantoni è andato a preparare dei numeri straordinari perché si trasformerà, diventerà, diventerà, poi tornerà, poi ritornerà ecco, infatti sono qui vi aspettiamo tutti naturalmente non sappiamo se quando andrà in onda questo servizio se sarete ancora in tempo per venire noi saremo fino al 10 aprile qua se no 10 al 10 aprile qua, provo a dire 10 10 la lingua, buttele o se no, se non ce la fate voi scrivete e vi rifacciamo lo spettacolo appositamente per voi grazie